Ciao creatura Oggi guardiamo insieme le offerte valide dal 14.01 Non ho idea se lo sto inquadrando perché non vedo nulla Al 20.01 quindi ci cadiamo dentro perfettamente E c'è deliziose specialità Irlanda e Gran Bretagna Wow non ho mai acquistato se non sbaglio di questa tipologia Questo tema insomma dell'Idele Quindi sono molto curiosa di andarli a vedere insieme a te So che ti piacciono molto i miei video dove guardiamo il catalogo dell'Idele Appena ho visto che c'era questo l'ho preso in un video L'ho detto ad alta voce finché lo prendevo è stato bellissimo Ok Vediamo C'è shortbread fingers biscotti scozzisi al burro E già mi piacciono perché il burro mi piace 1,39 euro Poi abbiamo fish and chips I bocconcini di merluzzo d'Alaska con patatine fritte Il piatto più richiesto nei tradizionali pappi inglesi Quindi un chilo la confezione 3,99 euro Questo mi fa già meno voglia ecco Formaggio cheddar stagionato a 9 mesi 400 grammi la confezione 2,99 euro Questo mi fa voglia Ci sono nell'inquadratura Scrivono nei commenti Oddio 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 Sono simili però tagliate diverse Poi ci sono patate arrosto Bricotte Queste fanno voglia In panatura croccante speziata No no queste le voglio provare 1,99 euro Mi affascina questa panatura croccante speziata Mi incuriosisce Io non ci vuole dire Poi c'è Blu Stilton Cheese Top Formaggio erborinato a pasta dura 2,49 euro Mi fa voglia Ma il formaggio piace Ma spucco fuori anch'io No No perché ogni tanto Mi affaccio Per vedere se sono Se si vede ciò che sto Leggendo Poi Sassaworchester Sicuramente non ho detto male Di colore bruno scuro È adatta per insaporire Carni Sughi Ma anche per alcuni cocktail Addirittura Non l'ho mai assaggiato Quindi non so dire se è buona Non so dire da cosa so 1,99 euro Poi E non so se la comprerò Perché non la conosco Non saprei dove metterla Birra 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 1,99 euro Iris La 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 Come si legge Non lo so Chiara A bassa fermentazione Lupolo presente E aroma speziato Sapore ricco E complesso Oddio scusami La mia La Che ha Ha fatto rumore Strano Quando ho detto Complessa Che ha Triggerato Di una verità La Guinness Ok questa Questa Non la conosco Questa l'ho bevuta Un po' troppo Gusto Un po' troppo Pesante Per me Calcola che A me piacciono Quelle bianche No ma mi piace Anche quella rossa Però mi piacciono Anche le bianche Quindi questa Ah ok E Guinness Original Con Valvola In plastica All'interno Del lattino Che permette Alla birra versata Di assumere La caratteristica Schiuma E' vero C'è una pallina Dietro Per chi non l'ha mai preso Nel 29 Eh Snack salati Ok Snack salati Di mais E patate Del gusto di aceto Le voglio Queste 79 Wow Video assaggio Devo trovarle Adesso ho detto così Non troverò niente Come al solito Quando faccio un video Ogni volta sfiga No dai Pi positivi Sì sì Scrivi nei commenti Gratula Se troverai Troveremo tutto Anche tu Se vuoi qualcosa Patatine In diverse gustose varianti Mi sta venendo fame 150 grammi Alla confezione Un euro E 19 Vediamo Se si riesce a leggere Allora Qui dice Sale marino E Aceto balsamico Poi Questo non so cos'è Lightly salted Leggermente No Non lo so Lo scriverò Qua nel video E poi Sale marino E beppe nero Poi Waffles Che All'Italia una volta Li vendevano già Non so se li vendevano ancora Li vendevano Io me li prendevo sempre Nei Pacchettini Dove ci sono anche i muffin E Io non sapevo Quando ero piccolo Li prendevo mia mamma Ero piccola E non sapevo ancora Come si mangiava così Quindi io Li prendevo Li instoppavo nel latte Perché sono spugnosi Sono buonissimi Però con lo zucchero A velo sopra Sono la morte Proprio buonissimi Stile pandoro Che a me piace Con lo zucchero A velo sopra Non ha senso Vivere E anche i crostoli I crostoli Non li chiamavo crostoli Ed altre parti Sono bugie E altre cose Non so i nomi Le chiacchiere Dovebbe essere Ed ora sono crostoli E io li ho già mangiati Sono quelli di carnevale Fritti Mi piacciono Sottili Che si sciogliono in bocca E Con lo zucchero A velo Stavo dicendo filato Con lo zucchero A velo sopra Buonissimi Ok Waffles Mio nonno Una volta ci metteva Anche una nutella Dentro Però Anche noi Insomma Adesso Non esageriamo Semplici E veloci Da preparare In forno 1 euro 99 Poi Qui c'è Non so cosa vuol dire Salsa Alla cipolla Caramellata Salsa Brugne Mele Salsa Pomodoro E peperoncino Non so leggerlo Quindi Qualcosa Tradizionale Ok 1 euro 49 Non so come si pronuncia Non voglio sbagliare Allora Per non sbagliare Non lo dico Intelligente Su una Furba Whisky irlandese Distillato 40 volumi Invecchiato Ed imbottigliato In Irlanda Addirittura 8 euro 99 E poi sciroppo Di ribs nero Buona colazione Ma anche servito fresco Durante la giornata Cioè da bere È uno sciroppo da bere Mi vedi? Mi vedi? Mi vedi? Sì sono qui 1 euro 79 Non lo so Credo sia da bere Sì perché Quando leggo sciroppo Mi viene da pensare Allo sciroppo Tipo quello che si mette Sulle granite Che non è messo In realtà lo bevi Però diluito con l'acqua Quando leggo sciroppo Non mi viene in mente Una cosa liquida Mi viene proprio Cioè sciroppo Mi viene in mente Una cosa un po' più densa Che se la vuoi bere La probabilità Devi diluire Perché Non so se hai mai provato A bere Non solo Sciroppo alla meta Quello per le granite Insomma Sì lo puoi bere Però Anche no Ok Deliziose Specialità Irlanda E Gran Bretagna Abbiamo La confettura Extra Di Ribes Negri A 1 euro 19 Le marmellate Che ho scoperto Marmellate Sono quelle di agrumi Non sono di arance Ma anche di limoni Che sono agrumi Gli agrumi Sono marmellate La confettura Sono Tipo la marmellata Ma di tutte le arance Altre Frutti O altre cose Anche Non so La cipolla La zucca Quali così Ok Chiarito questo Andiamo avanti No perché Altra volta Non sono stata specifica Ho detto solo di arance Ma era di agrumi Ok In un video Dove ho mangiato Delle merendine Ok Marmellate ASMR Marmellate A scelta tra Marmellata di limoni Con lo scorzetto Di limone O marmellata di aranci Limoni con zenzero Wow 1,19 euro Crumble di mele O frutti rossi A 1,99 euro Poi Bayliss original Che buono E Bayliss Io l'adoro E ho bevuto Quello Al cioccolato E quello Al caramello Buonissimo Il caramello Wow Ma anche Quello al cioccolato È buonissimo 9,89 euro 9,89 euro Peccato che sia caro E poi Sarcelo Meno Bevuto Perché è come un dolce Solo che è alcolico Accidenti Preparazione a base di latte Fermentato Quindi Yogurt Perché hanno scritto Preparazione a base di latte Fermentato Invece di scrivere yogurt Sei birbante Lidl 0,49 Abbiamo dei gusti Che fanno voglia Ma Non riesco a leggere Da qua Ma Dall'immagine Potrei Intuire Che è Menta Cioccolato E mi fa una gran voglia Poi questa Una torta di Arance Gusto arancia Non so E questa Gusto Dei frutti rossi Quindi Potrebbe essere Non so Gusto Frutti rossi Torta Non so Potrebbe essere una torta questa Che non credo Mette una feta di pane Allora Poi Qui Abbiamo Il fudge Fudge Caramelle Irresistibilmente Dolci Quindi già Ho capito Questa è Caccao e vaniglia Queste sono vaniglia Quindi dolcissimi 1,69 Poi Scones Dolcetti Con uvetta Cioè non mi piacciono Non so se ho letto bene Scusami Possono essere serviti Con marmellate Specialmente Quella di limoni O miele 2,69 E non mi fanno Cioè mi fanno voglia Visti così Ma sapendo cosa c'è Che c'è l'uvetta Che non mi piace Poi biscotti Scozzesi Al burro Versione con gocce Di cioccolato Classica A 1,29 Fanno voglia Le cose al burro Sono buone Poi Biscotti Con frumento Integrale Il meglio Del meglio Allora del tè Wow 0,79 Qui mi dice Mi ricordo Una certa legione Ok dopo Devo dire una cosa Mi è venuta in mente E una nuova parola Molto trichierosa Sono le 5 L'ora del tè E la legione Approva Allora Qui Che fai parte Della legione E stai vedendo Questo video Quanto ti stai fomentando Dì la verità Commenta Dolce A base di datteri 2,79 Con burro E ricoperto Di crema Mou Wow Tortini di pasta Frolla Con ripieno Alle mele Non so leggere Non lo dico 1,39 euro Ma qui abbiamo Qui abbiamo Delle pubblicità Di viaggi Regno Unito Scoti Irlanda E insomma Littleviaggi Littleviaggi.it Sembra che te sto pubblicizzando Ma non sto pubblicizzando No è già finito Che peccato La parte con Le cose a tema Sono finite Andiamo Scorriamo Velocemente E vogliamo Andiamo a scorrere Velocemente Per vedere Se c'è qualcosa Di interessante Facciamo Questo Per suono Di Flip Della pagina Che a me piace Un sacco Il rumore Di quando si cambia pagina Ah Qui ho fatto Delle cose Per animali In offerta La lettiera No Per gatti No Non c'è cibo Per gatti In offerta Maledizione Solo per cani Beh ma Gli alimenti Per uccellini Papà Non li avevo mai visti A Lidl Neanche per i conigli Per i roditori O forse ci sono sempre Ma Dato che Ho solo un gatto Guardo solo per Per lei Basta Amici animali Da giovedì 17 gennaio Qualità freschessa E conveniente Ogni giorno Ma c'è l'è lì Dato 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 A mercoledì 16 Queste offerte Qui Cos'è questo Mix yogurt Con palline cereali Così Fra con la banana Di Minions Poi ci sono le cose Per Le fai da te Precisione Sicurezza E c'è la maschera Automatica Da saldatore Con led E poi Ma qua non dobbiamo guardare Dobbiamo guardare Solo così Ma la videocamera da esterni Con faro led Che lo vedi anche Sul cellulaggio Ma siamo troppo avanti qua Ma c'è Neanche attivo Ma c'è neanche un indumento interessante Tipo una maglia Nel carino Solo ad Halloween Poi qui ci sono delle cose Sien Poi c'è pollice verde Come Ecco a te Beh Questi bonsai Sono carini E hanno caro 99 Allora Se avete dei bonsai O delle altre piante A me piace tantissimo Quando ci mettono I dinosauri Dentro Cioè È la vita Ci mettete Dei dinosauri Così I bonsai Sembrano giganti Fatelo Sapete Sei quei Dinosauri Giocatori Di bambini Plastica Più Più sono piccoli E più il bonsai Sembrerà gigante Ok Poi Spazzo la modellana Questa qua Che si incastrano i capelli Novi Prego Spazzo l'elettrica Lisciante Asciuga i capelli È rosa Quindi piacerà sicuramente Tante Mobiletto Da bambini Beh Questa lampada Ha i cristalli Di sale Quanto fa Ed è subito La vedi Ed è subito Etnia Qua Non so Mi viene in mente Quelle robe Tipo Un wig Che dicono Adesso No Le Le finte wig Ok Poi Testine di ricambio Per il pastolino elettrico Il pastolino elettrico Al parico È una spazzola Per la poesia Del viso Così ampico Questi mi piacciono Perché Praticamente Qua Lo sapete Sono tipo Le confezioni Sono tipo Olografiche Ti viene voglia Di comprarle Anche se non ti servono E se non sai cosa sono Però su questa qui Soprattutto Io l'ho vista In negozio È tipo Oh mio Dio Mi guarda E mi dice Comprami 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 E cacchio Come fanno a comprare Ci hanno trovato Con questa scatola Sicuramente Qualcuno Mi prenderanno Anche con questa Ma questa È la mia scatola Ok Poi E abbiamo infatti Comprato una crema Per Non so neanche cosa Che poi L'ha usata mio papà Però Io l'ho vista Devo averla Anche se dopo Non l'ho usata Cattiva E cate Cattivo Cattivo L'idea Poi ci sono Anche Ipermakeup A 2,99 E un set Di pennelli Per il trucco Pestio 4,99 E c'è anche Super Leopardato E Questo qui Da Da Binky E questa Da Più Più serio Ecco Per le gotiche Metallare O normali Senza Poi queste sono Treci Questi sono Binky Binky con la B Mi raccomando Non confondiamo Poi Ci sono Le candele profumate Che spero Che profumino Perché Tante volte Purtroppo Si comprano Le candele profumate Hanno un buon odore La candela in sé Ha un buon odore Quando diamo Non usarla Ma poi le accendi Che non fanno Profumate Non so perché Però queste cose Da giovedì C'è il 7 gennaio E mi raccomando Bello C'è anche Il set Portascopino Per i vizi E c'è anche Asse per vizi Con i fiori Non so se Vedete Qua Bello Questo dispenser Di sapone In schiuma Con sensore Mamma C'è Ma neanche Nei Miglior Alberchi Di lusso Ce l'hanno Questo Poi La tenda Da tuccia Ma Io Ho La porta Quella Tipo Pichevoli Quindi Ho bisogno Per la tenda E basta E il Deplian Si conclude Con Super weekend Offerte Valide Dal sabato 19 A domenica 20 gennaio Che io Alla domenica Vado a fare la spesa E ho capito Perché non trovo Mai niente Perché al sabato Si fregano Tutto Prosciutto Prosciutto Graduitamente No ma lo voglio Cioè Adesso Dobbiamo fare Gameplay 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 ASMR Disponibile su App Store Google Play My Little Shop Dai facciamo Gameplay 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 Vabbè Farò un video A parte Ciao Creatura Ciao Buonanotte Grazie per essere Stata qui con me In questo Nuovo video Ciao 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 Ciao